Hola Pepegnos, che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi voglio iniziare questa challenge. L'obiettivo di questa challenge Pepegnos è di imparare una lingua in un mese. Io personalmente ho scelto il francese. Come penso di raggiungere questo obiettivo? Voglio partire dal difficile. Potrò usare solo ed esclusivamente YouTube e pagine web per esercizi o delucidazioni su alcune regole grammaticali. Non potrò quindi utilizzare cartaceo, quindi libri, dizionari e cose varie, e applicazioni, quindi si escludono a priori, bubble, duolingo, eccetera, eccetera, eccetera. Il francese è sempre stata una di quelle lingue che avrei sempre voluto imparare ma non ho mai avuto tempo, modo, forme e voglia in realtà di imparare. All'università mi sono sì laureato in spagnolo ed arabo e terza lingua portoghese. E molto spesso mi trovo a confrontarmi, insomma, con paesi arabi, come, che ne so, il Marocco, l'Algeria, eccetera, che hanno una grandissima percentuale di francofoni, praticamente. Sono paesi in cui, soprattutto l'Algeria, per esempio, la lingua ufficiale in realtà è più francese che l'arabo, cioè si parla molto più francese che arabo. Quindi, da un punto di vista anche professionale e pratico, mi verrebbe molto molto utile. D'altra parte, Pepegnus, è sì importante sapere che l'inglese è la lingua più parlata in Europa, con un 38%. Però spesso dimentichiamo che il francese è la seconda, con un 12%. Inoltre, è una lingua che si parla in ben 51 paesi nel mondo. Anche a livello prettamente pragmatico, di utilità, la Francia è il secondo partner più importante per il nostro paese, per la carissima Italia. Quindi crea un volume d'affari attorno ai 200 milioni di euro in scambi economici quotidiani. Prima di iniziare, voi potete dire, ma tu già parli cinque lingue, ti verrà facile il francese. Per io di francese, Pepegnus, non so, una beata mazza. So soltanto dire, je ne parle pas français. Je parle italien. Je t'aime. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Mour la rouge. Champagne. Champs-Élysées. Tour de fait. Arc de Triomphe. Quindi, all'opera! Devo dire che durante la prima settimana le cose vanno piuttosto bene, nonostante abbia notato una grande difficoltà nell'apprendere nuovo vocabolario. Il tipo di risorsa che ho trovato, quindi questi video su YouTube di questo professore francese che dà lezioni in realtà in inglese, sono davvero molto molto utili. E sono particolarmente incentrate in realtà sulla grammatica. Ma poi a livello di lessico, di vocabolario, mi trovo ancora molto 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 indietro. E ieri ho trovato, peraltro, su internet una sorta di test di A1 di francese e ero capace, sì, di leggere e di comprenderlo. E di uno di A2 di francese che sì, notavo molto più difficile per il mio attuale livello. E una delle cose più difficili che per adesso sto notando di questa lingua è la pronuncia. La cosa del francese che mi sta in realtà causando molti dubbi molto spesso è la differenza così grande, spesso abissale, fra ciò che scrivo e ciò che pronuncio. L'obiettivo di questa seconda settimana è sì di continuare con la grammatica, ma trovare un'altra risorsa online per imparare un sacco di vocabolario. Perché voglio iniziare a poter esprimermi, a poter parlare e a poter scrivere, soprattutto in francese. Il francese si sta a far più difficile. Ho iniziato il passé composé e il participio mi sta facendo impazzire Repenius. Cioè, parliamo, io pensavo che più o meno fosse simile, ok, la formazione, la lingua romanza, eccetera, eccetera. Ma, mio caro participio passato del francese, ti odio. Praticamente è come se ogni singolo verbo avesse il suo tipo di participio, quasi. Ci sono così tante eccezioni, irregolarità e piccoli cambiamenti che ne ho già abbastanza. La prima settimana si è conclusa con me, leggermente abbattuto perché non potevo ancora parlare francese. Questa seconda settimana si conclude con me ancora un po' abbattuto perché posso sì forse dire qualcosa in più in francese, ma il passato mi sta praticamente facendo impazzire. E spero che la terza settimana sia un po', ecco, di cercare di sedimentare un po' il passato e continuare con il vocabolario. Sì, pepegno, sono un po' abbattuto. Arriverò alla fine di questo mese? Non lo so, non lo so. Ora rimorirò prima. Per lo stress. Oh, ce lo seppà, ce lo seppà, pepegno. Pepegno, devo ammettere che sono davvero esaustissimo dopo questo mese. Non tanto per l'aver studiato francese, perché in realtà durante la terza settimana è venuta la mia carissima amica dal Kuwait ed ho avuto pochissimo tempo per studiare. E poi durante la quarta e ultima settimana, questa appena trascorsa, c'è stata la feria di avril qua a Siviglia. Una festa non stop, la 24 ore del giorno praticamente, a cui sono stato in realtà da sabato fino a venerdì. Poi sabato è ripassato e oggi è domenica. Non sono più tanto sicuro del mio livello di francese, perché contavo di usare queste ultime due settimane per sedimentare bene gli argomenti, continuare con altri spunti, altri video di vocabolario, di grammatica, eccetera. E purtroppo non ho avuto tempo, non ce l'ho fatta. Precedentemente, oltre al lavoro, insomma, mi sono messo anche un po' nei panni di chi ha davvero pochissimissimo tempo per imparare una lingua. E' vero che è molto più difficile, non è tanto facile, costa molto di più in quanto a energia, sforzo, volontà. Però bene o male è possibile. Credo di aver appreso qualcosa di francese. Se volete approfondire un po' di più il tema della feria, per solo ed esclusivamente per i miei Patreon c'è un video speciale in servo per voi sulla mia settimana alla feria, in cui vi racconto un po' da dentro come l'ho vissuta quest'anno, le cose che ho fatto e perché non ho avuto così tanto tempo. Quindi per i miei Patreon, vi lascio il link in box di informazioni qui sotto, c'è un video speciale. Salut, ça va? Questa settimana è stata un po' difficile. Io credo che non è facile apprendere la prononciazione e la grammaire francese, allora che è abbastanza simile a la grammaire italiana. La grammaire è qualcosa di molto molto difficile, per esempio il passato con il passato, il participo. Di l'altro, la lingua francese è abbastanza simile a la lingua italiana. Ma durante questo anno non ho avuto abbastanza tempo per studiare francese, ho dovuto passare un tempo con la mamma, lei è andata da Kuwait per passare un tempo con me, e la feria di avril è più tardata a cominciato. La feria è una fiesta espagnola che dura una settimana, e noi danniamo la lingua tradizionale, noi viviamo tutti i giorni. Ehm... Io credo che non è sufficiente per me per studiare francese. In questi mesi, ho studiato gli adjectivi, i pronomi, i presenti, i verbi, i passi, i composi. Il è molto 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 difficile, non lo so, non lo so. Ma spero che avete apprezzato questa video, e au re! Non sono orgoglioso di me, del lavoro che ho fatto, so che potrei fare molto molto di più. Se comunque volete supportarne, ve ne sarei davvero tantissimo grato, vi ricordo che potreste acquistare il mio romanzo Haram, oppure il mio libro appunto di spagnolo, o le mie magliette Io soy Pepe. Mi aiutereste davvero tantissimo a seguire, a fare video che è il mio sogno, e la mia passione, e... davvero... ve ne sarei davvero tantissimo grato. Se avete tanti video come questi, fatemelo sapere, e niente, Pepegnos! Grande fracasso per me! Je ne prupa parlerai francese. Au revoir! Au revoir, Pepegnos! Au revoir! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.